La formazione del Visla che gioca con questa maglietta speciale, la maglietta da Cracovia, una squadra di cui è divenuto comproprietario Jakub Blasikowski, non scorso la squadra di Napoli che era stato molto positivo contro il Bayern Monaco. Il Napoli, questo è Yeboah, i taloni vanno subito a cercare di riconquistarlo dalla metà campo della Napoli, Yeboah, adesso controlla, in posizione centrale, davanti a lui c'è solo Braun, scambia lateralmente allora Yeboah con Elma Dioui, prova a salire sulla destra ancora, Yeboah che dialoga molto bene con Gruszkowski, copia collaudata, Skvarka passano da lui tutti gli attacchi del Visla, è l'uomo di maggior talento, Napoli, una battuta affidata a Yeboah. L'arga destra per Gruszkowski si fa vedere Yeboah che riceve subito un po' di spazio per provare a saltare Kulini, è diventamente più brillante del Napoli in questo inizio di partita, soprattutto perché il Visla ha già iniziato il campionato da due settimane. Allora, calcio di punizione battuto da Yeboah, colpo di tacco per Mario Rui, che crossa in mezzo, calcio d'angolo per il Napoli, buon lavoro di Zedatka. Terzo corner per la squadra di Spalletti, a chiusura di Yeboah, in crescita a questo primo tempo, ma è ancora sotto, a caso della rete segnata al sesto guardia, ma non usa che torna su di lui, Yeboah adesso, è il Madiwi, si chiama con Yeboah, sono tocchi corti per lui, Yeboah ancora, Yeboah, a questo punto della stagione, Napoli, a portare il pallone al Napoli, Yeboah, si fa vedere, Koulibaly, con un fallo, secondo l'arbitro, lo ferma. Uno dei migliori del Visla, anche Yeboah, anche in questo secondo tempo, come detto, passato dalle giovanili del Manchester City, non ha mai esordito in prima squadra, tanti prestiti a Lille, Tuente, Oviedo, la stagione migliore a Numassia, sul pallone, proprio Yeboah, che va con il sinistro, Ospina, e la stagione migliore a Numassia,